Partirà il 1 gennaio 2022 il nuovo eco-progetto che potenzierà la raccolta differenziata e l'igiene urbana su tutto il territorio comunale di Mondolfo. Verranno introdotti servizi più efficienti e nuove modalità che richiederanno la collaborazione dei cittadini nel cambiare le abitudini di conferimento dei rifiuti domestici. Nei prossimi giorni sarà recapitata a tutte le famiglie una lettera del sindaco Barbieri nella quale verranno fornite le prime informazioni utili sulla fase di avvio. Che cosa prevede il nuovo progetto? Il nuovo progetto di servizio di raccolta differenziata prevede la rimozione di tutti i contenitori stradali a libero accesso e la consegna a tutti i cittadini di nuovi bidoncini per rendere più efficace e puntuale il servizio di raccolta differenziata. Inoltre verranno installate delle eco-isole per le utenze non residenziali e utenze non domestiche con particolari necessità. Da metà novembre alle famiglie arriverà un kit. In che cosa consiste? Sì, il kit verrà distribuito dal gestore del servizio Onofaro SRL e prevede la distribuzione di sacchetti di umido e dei nuovi bidoncini per la raccolta differenziata porta a porta. Quindi verrà consegnato il bidoncino per la carta e cartone, vetro e metalli, umido, secco residuo e anche plastica. Inoltre sarà previsto anche il servizio porta a porta per sfalci e potature, ma per i grandi volumi sarà comunque possibile fare il ritiro a chiamata. Nell'occasione, insieme all'attrezzatura, verrà distribuito un pieghevole contenente le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, l'eco calendario e la tessera di riconoscimento per ciascuna utenza, con la quale sarà possibile autenticarsi nel centro ambientale ed accedere ad ulteriori servizi. Se al passaggio degli operatori i cittadini saranno assenti, troveranno un avviso cartaceo in cui saranno indicate le modalità per poterli ricevere o ritirare. Come ufficio ambiente avete organizzato una serie di incontri, quando inizieranno? Gli incontri inizieranno a partire dall'8 novembre, si svolgeranno nei diversi quartieri del territorio, inoltre sarà possibile visionarli sul sito web raccolta differenziata Mondolfo, un cambiamento importante ma che alzerà il livello di qualità e di vivibilità del nostro territorio.